Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. In questo video proviamo a fare una videoconferenza. In un video precedente, e qui in alto sulla iti metto il rimando a quel video, abbiamo visto come installare il programma per videoconferenze Zoom e come preparare una videoconferenza. Ora vediamo come parteciparvi e alcune cose che si possono fare durante una videoconferenza. Alcune cose perché vedremo che ce ne sono tantissime che io posso andare a fare. Quindi la situazione è questa. Io in questo momento sono l'organizzatore della videoconferenza. Nel video precedente mi sono scaricato il software, ho impostato la videoconferenza, ora è il giorno e l'ora in cui la devo fare. Per cui qualche minuto prima del momento io attivo la videoconferenza. Innanzitutto io che sono l'autore, l'organizzatore, il gestore di questa videoconferenza sono per Zoom quello che si chiama l'host. Quindi la persona organizzatrice responsabile di tutto quanto, senza di me, senza che io faccia nulla, la conferenza non può partire, non può essere organizzata e quindi non si può fare. Allora, innanzitutto cosa devo aver fatto io prima del momento della conferenza? Devo aver comunicato ai partecipanti, ai possibili partecipanti, il link per accedervi. Senza un link, senza un collegamento internet su cui andare a schiacciare, queste persone non sanno che esiste la videoconferenza e non sanno come raggiungerla. Posso fare in tanti modi, due i principali. Uno è quello di andare a copiare il link e mandaglielo via email. Allora, come avrei potuto fare a copiare questo link? Io ho già installato Zoom nel mio computer, vado ad aprirlo, qui sotto ho l'icona, apro Zoom, è stato velocissimo perché in realtà era già aperto sul mio computer, vado sulla conferenza in questione, premo su copia invito, il mio computer acquisisce l'invito, lo copia e questa copia, questo invito, lo mando via email, lo trasmetto per email a un'altra persona. Ora andiamo a vedere com'è più o meno questo invito. L'ho preparato qui senza fare l'email e quant'altro, un'email la sappiamo fare, la inviamo a una o più persone perché la conferenza magari è fatta appunto tra più persone. Questa è parte dell'invito, il resto è nascosto per questioni di privacy. Daniele Castelletti ti sta invitando a una riunione pianificata di Zoom, eccetera, eccetera, una serie di informazioni. Questo è il link. Al posto delle X, qui io ho messo delle X per privacy, c'è un numero strano che è il numero della riunione. Tutto quello che conta di questa email è questa parte che ho selezionato, è questo link. Per cui io qui potrei scrivere qualsiasi cosa. Ciao ragazzi, dai, questa sera facciamo la riunione, facciamo la conferenza, ci vediamo all'attalore, eccetera, eccetera. Quindi non importa quello che c'è scritto lì, l'importante è che io questo link lo includa nell'email e la persona, quando vuole partecipare, quando anche per lei è ora di partecipare, deve premere su questo link che magari ha ricevuto via email o via WhatsApp o in qualsiasi modo, io devo fargli avere questa parte qui. Un'altra cosa che si può fare con questo link, per chi può, per chi è in grado di farlo, è metterlo sotto forma di pulsante in un sito internet, in modo che tutte le persone che entrano in quel sito internet, che sono in grado di entrare in quel sito internet, perché lo conoscono, perché è un sito del gruppo, premono il pulsante e quindi accedono alla riunione. Noi proviamo in questo modo, quindi nel nostro sito Amici di Maggiolina, quindi vado ad aprire internet, vado sul sito Amici di Maggiolina, questo è l'indirizzo internet, gli Amici di Maggiolina già sanno di cosa si tratta, è il nostro sito dove ci sono tutti i nostri video in ordine cronologico, raggruppati per argomento, eccetera, eccetera. Oggi pomeriggio, mentre sto registrando questo video, ho messo qui, un po' nascosto, perché gli Amici di Maggiolina vengono sul sito abitualmente, quindi non vorrei confonderli. Qui c'è scritto Prove tecniche di conferenza. Questo per me è il bottone, ma avrei potuto dargli anche un aspetto di questi, semplicemente ora lo volevo tenere un po' nascosto e l'ho messo lì. Quindi, quando sarà ora di partecipare a una conferenza, basterà premere su questo pulsante per raggiungere la conferenza, perché da lì verrò mandato alla conferenza. Quindi siamo pronti. Tempo fa è stato pubblicato il sito, il link è disponibile, abbiamo dato un appuntamento con un tal giorno e una tal ora, siamo pronti per la conferenza. Allora, che cosa devono fare le persone? Intanto io, l'host, l'organizzatore, un po' prima della conferenza, mi presento e attivo tutto, perché se io non lo faccio, non può avvenire niente, perché se io arrivo in ritardo, loro aspettano e magari anche inutilmente non capiscono di cosa si tratta, se stanno sbagliando, se c'è qualcosa che non va. Quindi ci si prepara un pochino prima, almeno un quarto d'ora prima, si arriva lì e si aspettano le persone. Diversamente, se uno arriva un'ora prima, vabbè, allora non è che possiamo aspettarlo un'ora prima. Però un quarto d'ora prima ci si presenta. Si arriva sul link, quindi anch'io, host, organizzatore della conferenza, vado a premere sul link, il mio computer mi dice a questo punto vuoi partecipare ad una conferenza aprendo Zoom Meeting, cioè aprendo il software che hai nel tuo computer, che hai installato nel video precedente e quindi quello che ha tutte le funzioni che ti permette di fare tutto, oppure vuoi partecipare direttamente dal tuo browser internet, cioè direttamente all'interno di Google Chrome o di Edge puoi partecipare alla conferenza. Io scelgo Apri Zoom Meeting, perché ho già installato il programma dato che facciamo spesso conferenze, installare il programma è gratuito, è abbastanza semplice, l'abbiamo visto nel video precedente e mi dà infinite funzionalità, quindi assolutamente installo il programma e quindi mostriamo questa versione. Diversamente si può fare anche Join from your browser, quindi entra attraverso il tuo browser e il funzionamento che vedrai è lo stesso che facciamo adesso, però avrai meno pulsanti meno funzioni a disposizione, quindi vedendo questo video vedi la versione completa e se poi tu scegli di accedere con il tuo browser tanto per provare vedrai che hai a disposizione meno pulsanti. Ma io entro con Zoom Meeting, quindi premo lì, si apre il meeting a tutti gli effetti, quindi ho solo premuto e il meeting si è aperto. Eccomi qua, ora io sono pronto per la conferenza, io sono arrivato. Allora una cosa importante, ora toglierò la mia immagine perché la videocamera sarà utilizzata dalla conferenza, per cui adesso io sparisco, rimango con la voce e basta, ma mi vedrai nelle telecamere inquadrato dalla videoconferenza. Ok, quindi a questo punto la conferenza è avviata, l'host è arrivato. Io sono ancora l'host e faccio ancora qualcosa per me. Questa schermata ce l'hanno tutti gli utenti. Ora io sono l'organizzatore, mi sto preparando, quindi dato che arrivo prima di tutti mi gestisco. Questo è il microfono acceso spento, questa è la telecamera acceso spenta. In questo momento il microfono è acceso ma la telecamera è spenta, è barrata. Se io premo sulla telecamera, premo ed ecco che sono tornato in video, questa è la mia telecamera e questo è il mio video, questo è il mio sfondo reale, nella realtà qui c'è anche un pezzettino che copre un pezzettino di carta che copre la telecamera per proteggerla dalla luce ed eccomi qua. Quindi questa è la mia immagine reale come apparirò in conferenza. Io ho attivato la telecamera e vi vedo così, la spengo e sparisco, la rimetto ed eccomi qua, allo stesso modo faccio col microfono, spengo o accendo il microfono. Ora lo lascio spento perché mentre sto registrando il video e facciamo varie prove se tengo anche il microfono aperto, crea confusione con la registrazione, quindi tu quando partecipi a una conferenza ti devi preoccupare di averlo acceso ma adesso io che registro mi preoccupo invece di tenerlo spento. Ha una cosa importante, se tu partecipi a una conferenza, siete magari in 20 persone, stai ascoltando una persona che parla, l'host o un'altra persona, ti conviene chiuderti il microfono perché in questo modo i rumori che provengono da casa tua quindi le tue parole ma anche la televisione, qualcuno che ti chiede qualcosa mentre stai guardando eccetera, non si sentono in conferenza e in tutte le case di tutte le persone. Per cui se partecipo a una conferenza ma sto ascoltando tengo il microfono chiuso, quando devo parlare io devo ricordarmi di aprirlo e in questo caso adesso il mio microfono è aperto e le persone mi sentirebbero. Posso tenerlo sempre aperto ma devo essere in un ambiente tranquillo, chiuso, al silenzio per non disturbare gli altri e soprattutto devo ricordarmi che se dico che pesante che è questa persona si sente perché il mio microfono è aperto. Ok, torno a chiuderlo. Un'altra cosa può capitare che quando tu ti colleghi in conferenza il microfono non funzioni cioè tu apri il microfono ma le persone non ti sentono. Tu accendi la telecamera ma non ti vedi perché per qualche motivo nel tuo computer c'è qualcosa di non regolato correttamente e non funziona o il video o il microfono o entrambi. Cosa devo fare? Devo andare qui. Allora microfono poniamo che sia acceso ora lo tengo spento per comodità. qui accanto al microfono c'è questa freccina la premo la freccina apre un menu e qui in alto mi vengono mostrati i microfoni presenti nel mio computer uno deve esserci se qui non ci fosse scritto nulla dall'altra parte non mi sentono perché nel mio computer non esiste un microfono ma generalmente il microfono c'è e a volte ce n'è anche più di uno nel mio caso ne ho tre ad esempio perché io ho il microfono con cui registro i video questo qui in alto ho il microfono della mia webcam la mia webcam all'interno ha un microfono in genere tutte quante hanno un microfono e ho anche il microfono di sistema ma in questo caso non c'entra nulla quindi i miei due microfoni sono questi due o uno o l'altro per cui scelgo l'uno o l'altro se le persone in conferenza non ti sentono vieni qui vedi dov'è il baffetto lo sposti sull'altro microfono in questo modo ti sentiranno se qui dove c'è scritto seleziona un microfono non hai nessuna voce non hai il microfono preoccupati di comprarlo in modo da poterlo utilizzare ti dico anche che se tu utilizzi le cuffiette quindi cuffiette da cellulare auricolari da cellulare hai due vantaggi il primo è che c'è un microfono quindi in questo caso hai un microfono a disposizione infili le cuffiette e hai il microfono a disposizione nel tuo computer secondo vantaggio quello che si dice lo senti solo tu in questo modo non disturbi i tuoi familiari e soprattutto non c'è un rimbombo perché se io uso le casse del mio monitor o del mio computer quando ascolto un'altra persona in conferenza quella persona parla le casse del mio computer mi danno il sonoro il mio microfono capta il sonoro e lo rimanda attraverso internet a tutti quanti per cui c'è l'eco la persona parla e tutti sentiamo un eco perché sono io che ho le casse molto alte perché se le tengo bassine non succede niente ma siccome ci sento poco le tengo alte se le tengo molto alte il mio microfono sente rimanda e ce l'eco e quindi si sente continuamente eccetera quindi o spengo il mio microfono in modo che anche se sente non viene rimandato indietro oppure uso gli auricolari che sono il top per cui se ti presenti a una conferenza mettete direttamente gli auricolari fai bella figura e siamo tutti quanti contenti quindi da qui scelgo il microfono e da qui scelgo dove ascolto il parlato delle altre persone qui c'è scritto seleziona un oratore è una traduzione in italiano ma da qui in realtà tu ascolti il parlato delle altre persone e quindi scegli ad esempio l'altoparlante di un microfono l'altoparlante del monitor l'altoparlante del computer se ne hai più di uno a volte ne hai uno solo e quindi non devi scegliere nient'altro però si fa da qui quindi accanto al microfono hai la scelta del microfono per farti sentire degli altoparlanti per sentire tu quello che viene detto allo stesso modo accanto alla telecamera hai una freccina perché da qui tu puoi andare a scegliere le impostazioni della telecamera se ne hai più di una vedi che io qui ne ho più di una puoi andare a premere su un'altra telecamera in modo da essere inquadrato da un'altra webcam ma generalmente se ne ha una sola io per questioni di video registrazioni eccetera ne ho più di una però da qui vai a scegliere se non c'è nulla qui vuol dire che non hai una webcam quella che hai non è collegata quella che hai non funziona quindi se qui non c'è nulla non ti vedono dall'altra parte perché non hai i mezzi tecnici c'è qualcosa che non funziona devi trafficare nel tuo computer affinché questa sia chiaramente visibile attenzione che alcune persone sulla telecamera del loro schermo sembra una cosa banale è un po' ridicola ma succede spesso hanno una pellicola che la copre per proteggerla e magari non l'hanno mai tolta quando partecipano a una videoconferenza loro li si vede bianchi li si vede gialli li si vede sfocati perché bisogna tirare via la pellicola dalla webcam in questo modo poi ci si vede in genere se è un computer portatile quando lo apri la telecamera è sul mezzo dello schermo perché ti inquadra diritto e quindi lì ci deve essere l'occhietto della telecamera e togliere l'etichetta per poterla utilizzare ok e questo ce lo siamo detti io però sono qui adesso sono pronto a fare il a fare diciamo l'host della conferenza e vorrei migliorare un po' il mio aspetto voglio ad esempio cambiare questo sfondo verde ok non è male ma mi piacerebbe farmi vedere altrove quindi vado a dire scegli sfondo virtuale vuol dire che il mio computer zoom questa applicazione toglie il verde che ho dietro e ci mette qualcosa d'altro quindi scelgo lo sfondo virtuale si apre questa schermata e posso quindi andare a dire senti io voglio questo lo sfondo lunare eccolo qua quindi io adesso ho questo aspetto certo si vede un po' qui dietro al collo eccetera perché lo sfondo dietro magari non è proprio uniforme perché magari l'illuminazione non è proprio bella quando mi muovo faccio le ombre quindi è un po' è un po' strano però è uno sfondo che si può avere se dietro ho uno sfondo piacevole nel senso che ho uno sfondo uniforme monocolore uniforme posso presentarmi all'interno di qualche altra parte posso scegliere una qualche immagine qui io avevo quelle natalizie perché le ho usato per Natale posso ecco questo è un soggiorno che io ho scaricato da internet sono andato su internet sono andato su pixabay.com o .it adesso non mi ricordo bene è un sito internet che rilascia immagini gratuite quindi libere da diritti d'autore ho scelto questa l'ho scaricata e quindi io faccio la conferenza facendo finta di essere in questo soggiorno se il verde dietro fosse migliore se l'illuminazione fosse migliore in teoria potrei apparire direttamente mi vado a mettere questo sfondo qui stellare perché mi piace di più e basta quindi io sono pronto ad aspettare le persone che arrivano in conferenza da me e quindi siamo pronti benissimo rimpicciolisco la schermata rimpicciolisco anche dietro rimpicciolisco tutto rimpicciolisco tutto e siamo pronti così ora vediamo invece cosa deve fare un utente quindi la persona che partecipa per cui non sono più il l'host in questo momento faccio finta di essere una persona che partecipa apro il computer del partecipante quindi io qui ho il mio computer virtuale che mi hai visto utilizzare da altre parti eccolo qua intanto qui vedo che riusciamo a vederci lo stesso in questa piccola immagine allora io sono sul computer di un'altra persona quell'altra persona Mario sono Mario in questo momento sono a casa mia so che Daniele a tal orario alle 16 alle 15 e 45 fa la sua conferenza aspetta che vado e partecipo quindi accendo il mio computer apro il mio browser internet vado a leggere l'email o entro nel sito internet dove c'è il link per partecipare quindi noi abbiamo visto che c'è il link per partecipare per cui vado da lì vediamo se il mio computer apre il browser eccolo qua che arriva e poi vado a vedere questo link per partecipare anch'io alla conferenza voglio salutare gli amici di Maggiolina noi facciamo con amici di Maggiolina ma queste cose si fanno proprio per qualsiasi tipo di conferenza per qualsiasi situazione allora vado sul sito www.associazionemaggiolina.it slash amici vediamo raggiungo la pagina internet qui la velocità dipende dalla connessione internet in questo caso ho scritto sicuramente male qualcosa www.associazionemaggiolina.it slash amici andiamo ok entro nel sito perfetto entro nel sito eccomi qua vado a cercare il link quindi devo sapere dov'è insomma devo vederlo vado a cercare il link faccio la stessa cosa che ha fatto l'host però io sono un ospite in definitiva premo su prove tecniche di conferenza eccolo qua anch'io posso scegliere se accedere con il browser quindi direttamente dal browser o se aprire l'applicazione zoom che ho installato nel mio computer dopo aver visto il video precedente apriamo l'applicazione zoom perché funziona meglio e perché così ci dà più possibilità di utilizzo apro zoom meeting eccolo qua di solito a questo punto mi viene chiesto come mi chiamo eccetera e quello sarà il nome che io utilizzerò in conferenza in questo caso non me lo chiede perché ho fatto delle prove prima me l'ha chiesto poi se le ha tenute a mente quindi in questo momento non sono in grado di darmi il nome qui mi viene chiesto adesso se voglio entrare oppure no dico sì voglio entrare con video o senza video nel senso che voglio farmi vedere oppure no vabbè mi faccio vedere così ovviamente se partecipo a una videoconferenza mi sono preoccupato di essere vestito adeguatamente magari è caldo c'è estate c'è un caldo infernale ma magari non mi presento a torso nudo ho almeno una maglietta una canottiera addosso come quando esco per strada e vado al supermercato vado al supermercato vestito in una certa maniera mi siedo a una conferenza vestito in una certa maniera e cerco di essere educato allo stesso modo di quando vado altrove al supermercato per dirne uno ok entro quindi io adesso chiedo di entrare in conferenza sono Mario e voglio entrare in conferenza perfetto a questo punto cosa succede? attendi l'organizzatore della riunione ti farà entrare a breve ci è sentito un bip bip in pratica io ho bussato per chiedere di partecipare alla videoconferenza ora sarà l'amministratore a darmi l'accesso andiamo a vedere che cosa succede sul computer dell'amministratore quindi ho rimpicciolito tutto io sono di nuovo sono tornato ad essere lost apro la mia conferenza di zoom dovrebbe essere qua eccola qua però non la vedo vediamo questa è la mia conferenza di zoom mi si vede piccolino perché l'ho rimpicciolita in precedenza vediamo se riesco a reingrandirla ho fatto male a rimpicciolirla prima per andare avanti dunque provo da qui chiudi zoom zoom rimuovi se passo a zoom così non si vede nulla se clicco due volte qui ah questo questo premo qua ok ecco l'ho rimpicciolita e mi ero perso benissimo allora io sono qui e sul mio computer hanno bussato lo vediamo qui in basso a destra c'è scritto guarda che Asmaggiolina abbiamo detto Mario ma io quando ho fatto le prove avevo dato il nome Asmaggiolina a quella persona quindi adesso arriva come Asmaggiolina vuole partecipare è entrato in sala d'attesa cioè ti sta aspettando lo voglio ammettere oppure voglio visualizzare per capire chi è ma no lo ammettiamo io di solito ammetto direttamente ho detto ammetti ora Asmaggiolina entra in conferenza con noi vediamo se Asmaggiolina ci farà vedere anche il suo video ma quello è tutto un altro discorso quindi ora siamo in due sono io l'host e c'è l'altra persona il nostro amico Mario che al momento è chiamato e collegato come Asmaggiolina ok torniamo a fare Mario quindi questo lo lascio qui eccomi qua io sono Mario mi hanno dato l'accesso ora entro con l'audio del computer va bene entro con l'audio del computer entro ed eccomi qua che sono entrato anche io Mario quando entro e soprattutto di solito appunto il partecipante si deve preoccupare del proprio microfono è aperto è chiuso posso regolarlo che microfono utilizzo quali altoparlanti utilizzo qui ce n'è uno solo perché come il sistema è inteso così come è organizzato il computer e quindi io ho la scelta solo dei nomi sopra così come un microfono solo ho a disposizione e posso aprirlo o chiuderlo posso cambiare anche il mio video al momento non mi stanno vedendo vediamo se vado a dirgli il video era questo però non sembra funzionare c'è qualche problema vediamo se riesco ad attivarlo al volo peccato perché avevo programmato tutto per fare le prove giuste sto andando a sistemarlo no il video non si riesce a vedere se lo spengo così è spento così lo accendo ma purtroppo non si riesce a vedere peccato perché avevo fatto proprio tutte le prove affinché si vedesse il video e quindi non abbiamo la possibilità di dimostrarci quindi in questo caso dovrei uscire spegnere il computer riaccenderlo e tutto quanto per avere il video e quindi vabbè pazienza rimango senza video nel frattempo a casa sua un altro mio amico vediamo se ce lo fa vedere qui si collega col telefono allora fammelo vedere eccolo qua si collega col telefono cellulare la trasparenza dello sfondo me lo cancella eccolo qua il telefono cellulare quindi un mio amico quindi un'altra persona è andato sul sito amici di Maggiolina si collega anche lui quindi preme anche lui ha zoom questa applicazione sul suo telefono apre zoom eccolo qua e adesso verrà inquadrato vediamo bussa è apparsa questa schermata qui e il nostro amico host deve darci il permesso allora torno a fare l'host così vediamo meglio ecco qua io sono l'host hanno bussato da qualche parte quindi io dovrei vedere gli inviti vediamo se vado qui su partecipanti eccolo qua ah ok in questo caso Daniele Castelletti questa persona qui è entrata direttamente perché sono sempre io quindi sono ancora l'host per cui ho potuto entrare ma se fosse stata invece una persona nuova quindi non io non il mio cellulare ma quello di un'altra persona si sarebbe sentito il bip bip e io poi avrei dovuto dire ok accedi allora il Daniele Castelletti cellulare si mostra eccolo qua quindi adesso siamo collegati in tre io sono l'host vediamo se il Daniele Castelletti spegne il suo microfono così anche lui ok no non posso va bene va bene così speriamo che non dia fastidio dicevo adesso siamo in tre una persona che non si vede purtroppo una persona col cellulare eccomi qua ciao e l'host che sono io ognuno di noi può regolare il proprio video sul cellulare è un po' più complicato ma per risumo che si possa fare non lo uso tanto quindi non ho l'esperienza per fare tutte le modifiche ma invece come host o come partecipante posso cambiare qualcosa nel mio aspetto ad esempio i partecipanti o l'host possono modificare l'aspetto oltre al fondo dietro possono modificare il proprio aspetto andiamo a vederlo lo faccio io che sono l'host vado qui sulla freccina accanto alla telecamera vado a scegliere la voce scegli filtro video premo quindi io ho messo uno sfondo prima ma adesso lavoro con i filtri sono qui sui filtri desidero darmi un aspetto diverso mi metto un paio di occhiali scuri eccomi qua quindi questo è il mio aspetto adesso ho un filtro che mi mette gli occhiali scuri oppure potrei mettermi questi occhiali qua a bicolore ok e io adesso ho questo aspetto qui posso mettermi le orecchie da gattino il musetto da gattino eccetera ma magari no e quindi teniamo questa cosa per cui e poi dopo chiudo e ho acceso il filtro per cui ognuno di noi può personalizzare un po' la sua immagine quindi adesso questo sono io sono l'host questo purtroppo non lo vediamo e questo invece sono io al cellulare ciao quindi siamo in tre allora torniamo a vedere i partecipanti quindi apro il computer del partecipante e siamo qua sembra la stessa cosa perché? perché è una videoconferenza tutti quanti vediamo noi stessi cioè tutti quanti vediamo quello che fanno gli altri ognuno di noi si vede in ogni schermata c'è la presenza di ognuno compresa la mia questa è la presenza del partecipante in questo momento questa è la presenza del partecipante cellulare in questo momento e questa è la presenza del lost ognuno vede vede gli altri cosa posso cambiare? allora innanzitutto ingrandisco tutta la schermata tutta schermata questa è la situazione classica tutta schermata tre partecipanti se ce ne fossero cinque cosa succede? che questi tre quadrati si rimpiccioliscono per farci star dentro cinque persone se ce ne fossero dieci che cosa succede? che questi tre quadrati si rimpiccioliscono per farci star dentro dieci persone se ce ne fossero cento allora non si rimpiccioliscono più di tanto i quadrati vediamo se guardo qua mi si vede meglio non si rimpiccioliscono più di tanto i quadrati ma cambiano le schermate cioè c'è una schermata con una ventina di persone si cambia schermata altra schermata con una ventina di persone si cambia schermata altra schermata con una ventina di persone eccetera però e continuo a dirlo qua perché questo funziona meglio come schermo posso cambiare anche la visualizzazione che ho nel mio computer quindi adesso faccio l'amico collegato da casa ha questa vista che si chiama penso gallery view adesso qui c'è scritto solo vista premo e sì questa era la vista galleria dove ci si vede tutti quanti piccolini posso scegliere anche la vista oratore eccolo qua in questo modo io vedo in grande solo la persona che sta parlando quindi zoom riesce a capire chi è che parla in quel momento e lo mette in grande e lo ingrandisce tutti gli altri li vedo in piccolino qua non è detto che li veda proprio tutti magari ne vedo 5 o 6 se sono 100 dovrei scorerli per vedere tutti gli altri quindi questa è una visualizzazione comoda per vedere l'oratore del momento cioè la persona che sta parlando in quel momento lì e tenere sott'occhio anche gli altri nonché se stessi in questo caso sono sempre sono sempre io questa schermata nera mi dà fastidio ma ormai siamo qui e la teniamo così cosa volevo dire a questo punto posso scegliere tra due visualizzazioni io consiglio di solito quando siamo in conferenza questa questa galleria perché secondo me è più pratico vedi tutte quante le persone e quindi guardi in faccia un po' tutti ci si parla e siamo qua chiacchieriamo oppure nel caso di una conferenza uno parla gli altri ascoltano e siamo qua un'altra cosa che si può fare e la facciamo al volo e poi basta perché abbiamo visto un sacco di altre cose magari ci teniamo un altro video per vedere le altre cose ancora è condividere lo schermo io ho un problema sul mio computer quello che capita a noi di solito oppure devo mostrare qualcosa agli amici vado su condividere lo schermo eccolo qua scelgo la schermata da condividere è la schermata del mio computer e quindi schermo dico condividi e ora sto condividendo il mio schermo sulla schermata degli altri amici si vede quello che io sto mostrando andiamo a vederla vado sulla schermata dell'host allora vediamo se ci riesco vado sulla schermata dell'host questa è la visualizzazione dell'host che poi alla fine è la stessa mia tutti quanti vediamo il computer di una persona torno a fare quella persona perché altrimenti facciamo pasticci vediamo se ci riesco adesso come adesso sono a posto sì adesso io sono la persona che sta condividendo lo schermo ce l'ho fatta a ritrovarmi è difficile fare registrare essere tre persone insieme io sono la persona che sta mostrando il computer quindi quello che faccio io sul mio computer eccolo qua questo verde attorno questa riga questo riquadro verde serve a farmi capire che questa cosa io la sto mostrando a tutti in conferenza e posso andare a aprire un programma posso andare ad aprire il cestino posso mostrare qualcosa del mio computer adesso se lo apre eccolo qua questo è il cestino e tutti quanti quelli sul cellulare quelli a casa sul loro computer vedono il mio schermo e un pezzettino di faccine cioè un po' di persone ora siamo in tre quindi ci vede tutti e tre se fossero 50 vediamo solo 4 o 5 persone tutti quanti guardano quello che io sto facendo parlo le altre persone mi aiutano eccetera l'host potrebbe prendere il controllo del mio computer e agire sistemarmi le cose se io gli do il permesso eccetera ma sono tutte cose che magari ci teniamo in un video successivo quando ho finito di presentare il mio computer quindi di mostrare le cose che dovevo mostrare interrompo la condivisione e basta e tutti quanti tornano di nuovo a vedere la configurazione in questo caso video a 3 questa cosa mi dà proprio fastidio ai ragazzi aver preparato tutto e poi quando è ora non funziona mi dà proprio fastidio bene comunque ci siamo per cui torno ad impersonare l'host per salutarvi e devo fare questa cosa qui vediamo devo rimpicciolire quel computer là eccolo qua quindi io adesso sono l'host di associazione Maggiolina sono questo con gli occhiali gli occhiali 3D e ti invito a mettere un mi piace sul video premendo sul pollice che c'è qua sotto se ti è piaciuto ti invito altresì ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e se attivi la campanella sarai avvisato all'uscita del prossimo video puoi anche abbonarti al canale youtube associazione Maggiolina e vedere sempre qui su youtube i video della serie speciale riservata agli abbonati adesso stiamo per salutarci e quindi salutiamo una persona alla volta nel senso che una persona se ne va dalla conferenza vediamo che cosa fa allora torniamo dall'amico io sono l'amico col computer questo qua con lo schermo nero vado via ho finito qui ho il pulsante lascia premo su lascia e mi viene chiesto lasci la riunione sì ciao ragazzi io vado via ciao e sono sparito io a casa mia non vedo più niente sono uscito dalla riunione cosa succede agli amici che c'erano in riunione andiamo a vederli quindi torniamo sull'host eccolo qua sono rimasti in due c'è l'host che sono io qua sugli occhiali e c'è l'amico del cellulare eccolo qua ciao amici e basta quindi ognuno può salutare se invece se ne va l'host se ne va l'organizzatore della riunione lui quando preme termina può scegliere se terminare la riunione per tutti cioè dice io adesso vado via sono responsabile di questa riunione ciao amici abbiamo finito termino e tutti quanti spengono la conferenza quindi per tutti quanti si spegne tutto rimane ognuno lì davanti al proprio computer oppure io vado via lascio la riunione ma nel momento in cui io vado via devo incaricare un'altra persona di quelle presenti di essere l'host di essere il responsabile e organizzatore della riunione ma in questo caso ci fermiamo così con il termine la riunione mi raccomando iscriviti il mi piace abbonati ci vediamo presto ciao 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 ciao